Ci sono elementi di novità importanti rispetto a questa avvertenza. Un primo elemento di novità è che all'ultimo minuto si è presentato un soggetto imprenditoriale serio che ha voglia di investire, di rilanciare la parte produttiva di Quinto Vicentino, quindi rilevare Foral e rilanciare lo stabilimento storico. Dopo quasi due anni di crisi, finalmente la buona notizia che accoglie in toto le richieste dei lavoratori. Nessuno smembermento della società, nessuna delocalizzazione delle lavorazioni, né cessione del marchio. Un estenuante lungo tavolo di trattativa tra i potenziali soggetti interessati all'acquisizione e le organizzazioni sindacali moderate sul tavolo tecnico della regione e al Mise. Disperdere il know-how di alto livello del personale specializzato nei brand alta gamma sarebbe stato uno spreco inaccettabile in un territorio dove la manifattura del settore tessile di qualità era entrata in crisi. Dopo il rilancio della gas jeans di Chiupano, la fine della crisi della Foral è un segnale determinante d'ottimismo nel settore del Vicentino, che sottolinea una controtendenza nell'economia. Sì, il settore era in difficoltà, però in questo periodo viviamo una ripresa e per fortuna cogliamo i margini di questa ripresa e rilanciamo anche questo marchio, che sarebbe stato un delitto perderlo per il nostro territorio, perché Palsileri è Vicenza e Vicenza è Palsileri. Un altro elemento di novità importante è che noi siamo riusciti, nelle maglie normative, anche a sottoscrivere proprio questa mattina un accordo di cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi, per le 114 persone che sono attualmente in capo alla parte produttiva di Forale in questo momento e che chiaramente finivano la cassa domani. È la prima volta in Veneto che si firma dopo una cassa integrazione per cessata attività un'ulteriore proroga di cassa integrazione per altri 12 mesi. Non c'erano questi ammortizzatori. È nato di recente con l'ultima finanziaria, credo, o con qualche aggiustamento normativo. L'abbiamo scovata tramite un articolo di giornale, l'abbiamo approfondita e per la prima volta si applica in una vertenza importante.